La differenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali, non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Siamo ai titoli di coda, un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre a mio fianco. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie. 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 Grazie.